Una maratona per ricordare il sacrificio del commissario di polizia Filippo Raciti. E' iniziato questa mattina a Palermo il quarto Memorial Raciti che consiste in una gara podistica da Palermo a Catania senza interruzione che attraverserà parte di alcuni comuni siciliani. L'arrivo è fissato per domani alle 13.30 al decimo reparto mobile della Polizia di Stato di Catania. A ideale l'iniziativa è il maratoneta Rashid Berradi, testimonial invece il cabarettista palermitano Sasa Salvaggio. Importante per il significato di far capire che lo sport e la violenza sono due cose completamente distinte e separate. Importante la partita perché ritornano i palermitani a Catania e speriamo che i catanesi, ma sicuramente sarà così, daranno dimostrazione di maturità e quello che è successo non deve succedere mai. Sasa ha passato alla storia dei pronostici per aver azzeccato lo 0-4 del Catania al Barbera, questa volta non si sbilancia. Ma manco, guarda se mi fate, no, non si può. Una bella partita di sport e che vinca il migliore. Domani al Massimino ci saranno circa 400 tifosi rosa nero che si raduneranno al Barbera intorno alle ore 9. Tra questi anche tante ragazze appartenenti al sito rosa nero girls. Speriamo in una bella vittoria, speriamo soprattutto in un'accoglienza civile da parte dei catanesi, come loro sono stati accolti qua a Palermo e speriamo di divertirci soprattutto. Grazie. 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 Grazie.